Il primo incontro di box, Quarantiello Francesco, Angolo Rosso e Angolo Blu, Perna Jonathan. A seguire, a seguire, Malvernati Cristian, i guerrieri del Pietro e Betolotti a riuscire. Ripeto, si presenta i cittadini, poi Alessandro, l'Archi Marziali Rimini. Ricordo a tutti gli atleti, si accede solo dalla zona sanificazione dopo aver sanificato le protezioni o le mani. Mi raccomando, non passate dalle corde, non passate dalle transegne, ingresso unico, zona sanificazione. Pulite le protezioni, potete accedere all'armare di gara. Mi raccomando. Si presenti sul patami, Comin Alessandro. A seguire, si presenti anche, De Benedictis Ignazio, Archi Marziali Rimini. A seguire, si presenti anche, De Benedictis Ignazio, Archi Marziali Rimini. Per il ritiro dell'avversario, vince Comin Alessandro. Prego. Dalla destra cintura. Scusami, sei qua? Facciamo ugualmente un applauso. Aiane! Si imposa per l'accordo, per l'altro? Ok, bene, bene, bene. Allora, c'è De Benedictis Ignazio, del Archi Marziali Rimini. Eccolo qua, ciao, buongiorno. Prego, cittadami, grazie. Anche qui, il ritiro dell'avversario, vince De Benedictis Ignazio. Un applauso. A seguire, si preparino gli atleti, Comin Luca, di Archi Marziali Rimini e Guadagno Damiano, del GDT. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.